Ciao ragazzi, per me c'è questo nuovo video di Sandra Pannone 1 e vi volevo dire, tre giorni fa, cioè il 30 luglio, era il mio compleanno e il fratello della ragazza, il mio fratello che poi sarebbe un mio amico mi ha regalato uno spinner nuovo che ora vi farò vedere la prima di... la mia grammatica è troppo bella comunque, prima di farvelo vedere vi volevo dire anche che presto arriverà anche un video sul mio nuovo hoverboard che l'ho comprato, si l'ho comprato ma... bando al ciancio e ciancio alle bande cioè, bando al ciancio e ciancio alle bande non so se era così però lo stesso e vi faccio lo spinner ok e questo qui è lo spinner, me lo ha regalato il 30 luglio, cioè tre giorni fa che era il mio compleanno ed è questo qua cioè, ora ve lo faccio vedere tramite questa scatolina e poi lo apriamo ed è questo qua è molto bello andiamolo ad aprire ok, qui c'è ovviamente la fascetta mettiamo da parte tutto questo alziamo un po' la camera ok questo qua è un bello spinner arcobaleno con i teschi a dire la verità e a dire la verità gira anche molto veloce e non so se sentite adesso, aspettate, provo a farvelo sentire come se sentite, se sentite bene sono uguali, chi non ho sentito, questo spinner è fatto tutto di metallo tutto è un bello spinner, tra poco arriverà anche il video con l'overboard però non mi interessa adesso e appena, diciamo, appena l'hanno il mio amico me l'ha portato non riesco a parlare benissimo appena il mio amico me l'ha portato dicevo, quale sono le spinner? visto che lui c'ha le spinner più belli al mondo vi giuro che i suoi sono bellissimi e questo qua pure questo è bello e appena mi l'ha dato ho detto, oddio, questo è un spinner ho aperto la scatolina ho aperto la scatolina e invece c'era questo c'era questo c'era questo qua però prima di questo c'era questo foglietto ora vi faccio vedere questo foglietto qua c'era cioè mi sembra c'era se stava qui stava, no? aspettate se stava qui stava io ho visto sta cosa ho aperto e appena ho letto sta cosa qui ho detto no, è una trollata invece no, ho aperto ho tirato via il coso il foglietto e ho visto questo splendido spinner e niente, è molto bello di metallo soprattutto lo lucido ogni giorno per far sì che non lo sto facendo così per staccare i pezzi qua facendo così perché ogni volta quando faccio così delle volte si sfida un po' quindi faccio così per quindi faccio così per farò stare ferma bene e niente oltre al video del dell'overboard vi porterò anche il video dove testiamo la velocità di questo bolide di questo bolide qua e niente vi porterò anche un po' di trick no scherzo io so fare soltanto questo questo qua questo qua così e farlo soltare non sono capace so fare questo semplicissimo questo qua so farlo qua sopra ora mi cade aspettate perché non si regge molto un attimo e voilà vedete? ok ora provo a farlo girare anche qua ok provo a farlo girare anche sul naso non so se ci riesco si vede vero? forse sì è un po' difficile perché questo è metallo è metallo è pesante anche no no non ci riesco vabbè comunque è molto bello l'ho già detto è di metallo l'ho già detto anche questo e ci sono non so neanche quanti tischi ci stanno fatemi contare uno due tre quattro cinque sei sei più questo che abbiamo già contato prima che era il primo sette vediamo se uno due tre qua uno due tre quattro cinque no sei cischini sei cischini ho fatto una gara ho fatto una gara io con questo e il mio amico con il suo mi ha battuto mi ha battuto lui ma tipo di dieci secondi venti secondi mi porterò anche un video con un mio amico ve lo prometto quando si decide a venire perché lui abito in centro a Bologna non è tanto facile venire qui il mio amico si chiama Alberto cioè si chiamerebbe Alberto però tutti lo chiamano Albi quindi io lo chiamo Albi voi chiamatelo Albi siete a posto e niente vediamo quanto comunque il mio hoverboard è nero vi porterò un video su questo vi porterò anche il test dove testiamo la velocità e niente che vi devo dire è un bello spinner questo qui non so quanto dura quello col drago durava non mi ricordo e quell'altro con tutto colorato qua intorno con i teschi con i teschi qua lato tutto qua intorno colorato l'ho dato il mio fratello perché lui se no se ne aveva doveva comprare un altro e mio padre di spendere soldi non gli andava e niente massimo velocità wow sentite pesa questa cosa pesa 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 aia l'ho girato al massimo no? dopo che ho girato al massimo tipo ho beccato la punta qua ho fatto così ho beccato la punta mi sono fatto male cioè non è che fa male già fa sì altta volta ma se di fare così ho fatto così e ho beccato questa parte qua e niente beh basta mettiamo questa posta e che dire iscrivetevi mandatemi un commento se vi va iscrivetevi seguitemi su instagram e vi lascio lì il mio nome in descrizione e niente che vi devo dire e seguitemi su instagram mettete un bel pollicione iscrivetevi al canale e notate a visitare la mia pagina facebook anche se non se volete mandare mille amicizia su facebook potete farlo e che dire e basta ragazzi al prossimo video ok ok ok